Bentornato a tutti in un video verone, oggi sono qua per portarvi la miglior classe secondo me dell'FCX Imperium la miglior classe in generale per il cecchino e soprattutto una classe da utilizzare da controller diciamo che ho visto diverse build girare tra i player che giocano da mozette sterile col cecchino e non sono assolutamente adatte a chi gioca invece da controller questa è una build invece adatta a chi gioca da controller sia su Sheik Island sia su Almazra quindi andiamo a vedere subito la build e ve la vado subito a spiegare intanto questa è la build che ho usato in torneo in generale rispetto a Warzone 1 il cecchino quest'anno è molto più difficile da usare e è meno forte, è meno forte per fortuna perché comunque diciamo i colpi esplosivi abbassano molto la palombella del colpo quindi lo rendono molto difficile da usare ed è una fortuna perché diciamo con l'assenza di movement anche se c'è il dolphin dive diciamo sarebbe stato troppo facile rendere un cecchino completamente sbroccato come il car oppure come lo swiss sarebbero stati troppo forti su questo gioco di conseguenza è comunque forte questo cecchino ma ha bisogno di una squadra di sopporto è difficile giocare con il cecchino anche in pubblica e pensare di andare da soli contro magari coppie o terzetti magari sì in singolo è buona però per dire gestire una situazione di 1v1 contro un avversario con l'assalto da media a corta distanza è molto molto complesso di conseguenza c'è bisogno di compagni di squadra quindi è molto adatto a uno stile di gameplay adatto a chi gioca di squadra quindi magari un terzetto un quartetto dove gli altri usano l'assalto e la metraglietta e tu giochi il cecchino e perché appunto ha bisogno di un supporto ha bisogno di cogliere l'avversario in preparato ha bisogno di cogliere l'avversario che nel frattempo sta sparando a un avversario come vedrete nel gameplay che vi ho portato insieme a questo il gameplay è in una privata all'interno di un torneino nella quale ho fatto diverse kill con il cecchino e facevo anche il ruolo di spotter ovvero trovavo io i nemici e i miei compagni debolivo i miei avversari in modo tale da rendere facile il fight ai miei compagni e davo anche le indicazioni su come muoversi i compagni cosa che è molto efficace se si copre questo ruolo diciamo di cecchino slash spotter molto molto forte ovviamente non è adatto a un gameplay da tante tante kill è difficile andare sopra le 20 kill con questa classe anche in pubblica devo dire sto facendo fatica anch'io se non si gioca un minimo di squadra quindi un bacione al veroni vi lascio al gameplay ciao a tutti lasciate un like un commento e vi ricordo che siamo in live ciao 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 sull'antena non c'è nessuno raga sopra un hit a terra ho fermato hanno arrestato lì a doppia casa prendiamo il top di doppia casa? che dite? prendi? vai 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 top di doppia casa hanno appena arrestato si si provo a spottarli se riesco eh stanno in acqua stanno in acqua stanno in acqua qua vanno in due in acqua tre ve li fate da lì eh gli prendo la sinistra io nice l'altro è avanzato dove spawna la rocca di solito uno è in acqua forse passa sotto di me in acqua esce dall'altra parte esce dall'altra parte uno è qua eh uno ce l'ha a fronte a me a terra fattelo si 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 a terra terra l'altro è qua da me qua freddy one hit una mano una mano una mano raga in acqua scappa one hit un hp ha un hp fatto nice non li vedo datemi un secondo prendo un top prendo un top datemi un secondo poi li picco una sinistra a casa sinistra uno fronte a me calmi un attimo installato un attimo uno è qui ti push avizzo stai stai dal mio parte one shot one shot assista non strano vedete sparano vicino al bordo non so bene dove qua 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 easy kill terra 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 madonna una occa qua one shot one shot questo va giù è sul ponte eh non l'ho visto a terra mamma che picco facile mi danno ragazza giuro vedi picchiato zio a lodi fidate vai lodi vendilo ti vedo sopra stanno per scendere sono pronti a scendere freddy di me se scendono io bombardati una terra altre one shot posso non ho bisogno qua c'è un full team tienila tienila sopra di noi è qua fatto fatto guardatemi dobbè non ti vedo aspettami un secondo holda si noi non possiamo scendere anche la casa a destra freddy nice la casa a destra la vedi questa guarda guarda va sopra one shot one shot one shot in casa my bet 3 al benzinaio flyano flyano wow vengono a destra questi li dobbiamo fare dobbiamo farli tutti queste vanito terra terra fai le push a zio pazzia questa a destra a destra a destra a destra a destra vanna freddy quando ti sei buttato ho detto ci moriamo ora ci moriamo ma vecchio ma sai come ho detto avevo 12 bombe io 10 ti ho detto vecchio dobbiamo farne un bot cioè ero in gara ma dai ma sti cazzi zio c'è un game adesso dovessi mandare risultati non lo so sono centrali sul ponte in due fonticino vanno avanti vanno avanti vanno molto avanti a terra qua in mezzo qua dentro divine sta smoccando passo a sinistra io vanno avanti in due in due sono holdati a terra ho fatto uno un altro team loro sono sempre la casa dietro loro sono full team no no casa dietro non c'è nessuno ho la taglia a due dove no sono avanti loro sono qua divine è qua ho noccato uno di questi cazzo fanno è one shot one hit ma che cazzo fanno non so chi mi ha fatto un altro team zio si becco becco va da resta freddy un secondo dove hai di divine freddy sulla casa galta no no non posso piccare non sanno che sono qua devi sparargli un po' ti prendo un knock dopo gli vado sotto knock knock sul tetto sul tetto ok escono ora sono a bordo safe sono ad entrare lì dietro one shot one shot one shot c'è chi no c'è chi no a sinistra fadino due 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 eh stanno poca vita oh è tutto open raga è tutto open gli sta sparando sopra piccate piccate le kill gli sparano sopra guardate flyer questo è one hit questo è one hit one hit ancora tutti one hit ragazzi non ho muni non ho muni uno a terra cassa muni tirata qua raggiù in mezzo alle smoke c'è gente a terra un'altra terra piccano dal tetto one shot uno so due passiamo da sinistra possiamo smoke io sono passato arrivo sto sopra di noi loro occhio attento attento uno uno esterno è già fuori è one hit non pensavo un altro guardate uno castro bastardo uno è dentro casa uno è top casa uno è top casa uno è top casa uno è top casa uno deve essere top fatto qua davanti va due sono tre sono tre sono tre piastro uno è top ancora uno è top due v uno due v uno due v uno due v uno e sopra sopra un cazzo di colpi uscivo sotto da te oh ma merda dj vabbè almeno il 2x buona sì non sono tantissimi punti ma va bene vale bravi 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 buon game